La scuola materna di Borzonasca da quest'anno è gestita direttamente dal comune. L'arciprete Don Angelo Adami infatti aveva comunicato già in gennaio che l'associazione Asilo Infantile di Borzonasca, facente capo alla parrocchia, non aveva più la possibilità di garantire il servizio. Il comune pertanto ha preso accordi con la parrocchia e ha rilevato la scuola materna. L'accordo con la parrocchia è di usufruire di questi locali fin tanto che non avremo pronta la sede che è presso l'edificio scolastico che ospita sia la scuola primaria che la scuola secondaria di Borzonasca, quindi per un periodo relativamente breve. Dobbiamo fare i lavori che però sono collegati con la sicurezza anche sismica dell'edificio scolastico per cui per una forma di economia e di logica uniremo i due problemi e nell'arco del prossimo anno completeremo l'opera e andremo in una scuola materna che avrà aule molto grandi, potrà ospitare 27 bambini. Attualmente l'asilo è frequentato da 15 bambini provenienti anche dalle frazioni. C'è la possibilità di usufruire della mensa e del trasporto. Il comune spende 40.000 euro all'anno, vi lavorano due maestre e un assistente che fanno capo all'associazione L'Isola di Pingui di Mezzanego. In questo modo la scuola materna va avanti con un senso di gratitudine per tutti coloro che l'hanno mantenuta per un periodo ultrasecolare. Le tappe principali iniziano nel 1884 quando le suore immacolatine di Genova vengono a Borzonasca per aiutare i bambini orfani. Nel 1912 le immacolatine hanno lasciato la sede e sono subentrate le giannelline. Non le dico, tutte le persone anziane di Borzonasca hanno le loro radici nell'antica scuola materna. Dagli anni 80 purtroppo le suore sono andate via. E' subentrato questo ente morale, sempre gestito dalla parrocchia, che ha fatto veramente miracoli. L'unica cosa che potevamo fare adesso è sostituirli, mandando avanti i loro obiettivi e mandando avanti la loro opera.